Alba Parietti è una delle showgirl più amate e conosciute del piccolo schermo Grazie alla sua bellezza, al suo fascino e al suo talento si è fatta conoscere e amare dei milioni di persone Alba Parietti è nata a Torino il 2 luglio del 1962. Il debutto è arrivato nel 1977 a teatro con l'importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde Nei primi anni 80 lavora in diverse radio e televisioni locali pimontesi, dove lavora tra gli altri anti con Piero Chiambretti Nel 1981 sposa Franco Oppini L'anno seguente nasce il figlio Francesco, con il quale divorzerà nel 1990 La svolta nella sua carriera arriva quando il Rai partecipa a Galassia 2 di Gianni Boncompagni e Giancarlo Magalli, poi giallo con Enzo Tortoli La popolarità arriva nel 1990 quando passa alla conduzione della trasmissione sportiva dalla Gol su Telemonte Carlo Torna in Rai per la presentazione dello show La piscina sul Rai 3 Arriva a presentare il festival di Sanremo nel 1992 insieme a Pippo Barri, che la vuole anche al dopo festival l'anno successivo In questi anni affianca anche Corrado Mantone, per presentare il Gran Premio Internazionale della FIUO Conduce poi Nakao, su Rai 2 nel 1997, seguita nel 1999 da Capriccio, talk show dedicato al sesso e alla sessuologia trasmesso su Italia 1 Tra il 2006 e il 2007 è ospite fisso di domenica incondotta da Massimo Giletti Quest'anno ha lavorato come opinionista all'Isola del famoso Grazie 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 Grazie